Incidente nel pomeriggio Il pomeriggio di lunedì 26 aprile è intorno alle 16 sulla strada provinciale 58 in frazione Spineto a Castellamonte. Una forchia fuori controllo è uscita di strada e dopo aver urtato un albero si è ribaltata in mezzo alla careggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze, base e soccorso avanzato, della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e di Castellamonte e i vigili del fuoco di Ivrea. Il conducente, dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita, le cause del sinistro sono al vallio dei carabinieri. Grazie a tutti!